La Proloco Longane e l'amministrazione comunale di Rodimilici con la collaborazione di Lega Ambiente del Longano organizzano la Festa delle Identità Culturali Siciliane, Storie di Dame, Cavalli e Cavalieri. 10, 11 e 12 agosto, alle ore 21 in Piazza Martino, Rodimilici, tanti appuntamenti da non perdere con il primo raduno regionale di gruppi storici. Sabato 10 agosto, il Mastro di Campo, il Gruppo di Piana degli Albanesi e il Museo della Cuddura. Domenica 11 agosto, i Tataratà, il Ballo della Cordella e i Scacciuno. Lunedì 12 agosto, i Pignatuna, la Corte Principesca, i Giudei e i Misillanum. Festa delle Identità Culturali Siciliane a Rodimilici, esibizioni storiche con danze, musiche e canti popolari. Grazie. Grazie.